Buonasera e benvenuti all'Infinito Dentro un Bisogno, la finestra di approfondimento sul mondo del volontariato e del non-profit delle province di Novara e del Verbano Cuseossola. Oggi parleremo di alcuni temi veramente importanti, veramente delicati, parleremo della tutela degli ecosistemi lacustri, parleremo di agricoltura sostenibile, di energie rinnovabili, di educazione ambientale e il filo conduttore di tutti questi temi di cui tratteremo oggi, lo tratteremo sia nel nostro territorio sia al di fuori del nostro territorio, è la tutela del nostro ambiente. Per poter parlare al meglio di questo argomento abbiamo invitato Massimiliano Caligara, Presidente del Circolo di Lega Ambiente Gli Amici del Lago APS di Arona. Grazie Massimiliano di essere qui tra noi e di aver accettato il nostro invito. Buonasera. Grazie a voi dell'opportunità. Siamo un circolo di Lega Ambiente, da tanti anni operativo sul territorio, che man mano ha attaccato un po' di pezzi alle nostre progettualità. Benissimo. Allora, questa realtà è una realtà ben radicata, è nata già da parecchi anni, no? È nata formalmente nel 2000 e raccontaci innanzitutto quando è nata, in che momento, che cosa è successo e soprattutto perché è nata, che cosa vi ha ispirato, qual è la vostra finalità? Da sempre vicini e sostenitori di Lega Ambiente che compie ormai 41 anni, negli anni, fine anni 90-98 decidiamo di recuperare una spiaggia storica aronese che è la spiaggia delle Rocchette. Gli aronesi tengono molto a quel tratto di lago che è quello a confine con Meina, per capire, nord di Arona e abbiamo cominciato un inverno appunto nel 98, abbiamo recuperato 12 container di rifiuti, abbiamo costruito poi con l'amministrazione che ci ha secondato, allora era velati uno l'amministrazione, abbiamo costruito recuperando delle cabine del tennis, dei bagni, abbiamo costruito spogliatoi, abbiamo creato tutti i servizi nell'unica spiaggia che era completamente gratuita anche con l'acqua calda, riuscivamo a gestire 100 sdraio sempre gratuitamente, che la piscina ci aveva donato, quelle dismesse che noi avevamo risistemato e abbiamo creato le condizioni per tornare a, come dire, ad avere un rapporto con il lago, con l'ecosistema lacustre, direi di tutela e di salvaguardia, l'approccio era quello, quindi godiamoci quel bene ma in un modo ragionato, in un modo proprio di formazione anche educativa, accoglievamo le scuole, accoglievamo, facevamo i corsi di nuoto gratuiti, accoglievamo gli anziani di parecchie cooperative del milanese che insieme ai bambini avevano la possibilità di godere di un territorio, in questo senso del lago, dell'intero lago di Arone non solo, ma calato sulla dimensione acqua e da lì sono partite tutta una serie di stanze. Nasciamo come salvaguardia ambientale, tutela ambientale, ma ci trasformiamo subito e modifichiamo lo statuto pochi anni dopo il 2000, anche con tutta la parte del benessere sociale. Questo perché, anche perché abbiamo avuto un grosso regalo, devo dire, dalla provincia di allora e dal Ministero di Grazie e Giustizia, perché ci hanno chiesto di gestire uno dei primi progetti in Italia di recupero ambientale con i detenuti del carcere di Verbagna. E quindi abbiamo avuto modo, personalmente la più bella esperienza della mia vita che ho fatto, per le uscite collettive ma soprattutto per i percorsi individuali. Abbiamo avuto detenuti che uscivano dal carcere, una decina, in articolo 21 insieme a Libertà, prendevano il pullman o li accompagnavamo noi laddove non funzionavano i mezzi pubblici i collegamenti, presso sette comuni a compiere diverse professionalità. Poteva essere l'operaio, poteva essere l'impiegato, poteva essere qualcos'altro. La recidiva uguale a zero durante questo percorso contro quella nazionale che era il 67% e contro quella di una città più grande come Novara dove Dondino Campiotti gestiva un progetto mirabolante che era quello della cooperativa Multidea, lì era il 15. Ci sta che l'abbiamo fatto per poco tempo e su numeri piccoli però comunque la recidiva e questo racconta tante cose. Quindi siamo diventati benessere sociale anche per questo. Racconta che il lavoro, che il dar fiducia forse veramente è più riabilitativo di tante altre modalità. Ecco, voi siete anche proprio gestori diciamo di un progetto d'eccellenza insieme ad Enea che è il progetto Goletta dei Laghi proprio sulle microplastiche, proprio sulla tutela degli ecosistemi lacustri. Sì, tra le attività di Lega Ambiente Nazionale parte proprio la Goletta verde, quindi quella che si occupa dei mari, dell'acqua salata, ma parte da subito anche sui nostri laghi nel 2009 la Goletta d'Acqua Dolce che noi chiamiamo Goletta dei Laghi. E da lì parte tutto un intervento importante di monitoraggio non in competizione con ARPA ma in sinergia, nel senso che ARPA fa 52 punti sulle nostre sponde piemontesi, sui nostri laghi e noi non andiamo in concorrenza con ARPA ma insieme decidiamo dove campionare in altri punti le acque e poi sullo stesso tavolo raccontiamo i risultati del microbiologico da tanti anni ma la novità è che dal 2016 si introduce la necessità per fortuna e la possibilità con Enea, siamo partner, un partenarato importante scientifico come tanti che abbiamo ma d'eccellenza con Enea che ha un brevetto per raccogliere le microplastiche con una manta strascico e poi ha anche come dire tutta la capacità di contarle, di dividere e di contarle. Ecco scusa se ti interrompo ma le immagini che stiamo vedendo sono quelle relative a un convegno Le immagini sono quelle dell'anno scorso luglio 2021 al Majestic che è un nostro partner che è accreditato legambiente turismo, un altro pezzo di legambiente dove abbiamo proprio formato ARPA in questo caso ARPA Piemonte insieme ad Enea proprio per la cattura, quindi il prelievo delle microplastiche in acqua. Quel giorno eravamo anche scortati dalla Guardia Costiera con cui abbiamo un rapporto davvero importante, abbiamo dei protocolli nazionali ma anche sul territorio sono declinati molto bene. E che cosa emerge da... Emerge che tutti i laghi purtroppo in Italia oggi contengono microplastiche e non possiamo filtrarli, possiamo invertire la tendenza, stiamo lavorando anche con Acqua Novara VCO per esempio che gestisce tutti gli scarichi di tutte le nostre abitazioni e quindi tutti i depuratori per capire, non essendo stati progettati i depuratori a fine anni Ottanta per trattenere le microplastiche di cui non sapevamo nulla, non sapevamo neanche cosa fossero, stiamo proprio ragionando su fare mirate ricerche quest'anno, questa stagione 2022 anche sulle foci dei fiumi anche in prossimità dei depuratori. E devo dire che la sinergia che c'è con ARPA e che c'è con Acqua Novara VCO per noi è importantissima, c'è un gruppo di lavoro entusiasmante che lavora con i vertici, quindi con Daniele Barbone che è l'amministratore delegato, con l'ingegnere Robotto che è il direttore generale di ARPA Piemonte, dove c'è un rapporto che ormai è diventato un rapporto direi di amicizia, non solo di conoscenza buona, però di un valore scientifico per noi è importantissimo, quindi Enea, Acqua Novara e ARPA in questo caso, ma il CNR, noi siamo nel contratto di lago, siamo nella commissione scientifica del contratto di lago che abbiamo molto spinto e il CNR è un altro partner d'eccellenza che abbiamo su queste cose, quindi diciamo che tutta la parte scientifica è ampiamente coperta. Caspita, ecco andiamo proprio su un altro ambito, ovviamente come dicevamo prima il filo conduttore è sempre questo amore per l'ambiente, questa tutela, che però questo amore può nascere soprattutto, come anche mi raccontavi nella tua esperienza, grazie a un'educazione ambientale molto importante che deve avvenire fin da bambini e su questo interesse, questa priorità dell'educazione ambientale, per cui attraverso diverse modalità, gli orti didattici, dei vari percorsi, è incentrato il progetto del Borgo Verde. Ecco, raccontaci di cosa si tratta e qual è l'obiettivo di questo progetto? Borgo Verde è un progetto che nasce quasi per una provocazione mia che fece a un gruppo di amministratori, tra i quali posso fare nomi e cognomi, Elisa Zanetta, assessore di Borgomanero, e dicendo se tu avessi come comune uno spazio da dare in gestione a noi in comodato uso, mi piacerebbe fare un progetto di agroecologia sociale. Cos'è l'agroecologia sociale? Dette in tre parole sono le buone pratiche agricole e agronomiche applicate all'ecologia, quindi nel rispetto dell'ecosistema, ma con la promozione assoluta della filiera sociale, quello che come lega ambiente chiamiamo ecologia umana, cioè è quel ritorno alla necessità di mettere la parte della sostenibilità sociale al centro della sostenibilità che è anche ambientale per forza e pure economica, però deve passare per l'attenzione verso l'individuo. Individuo che nel caso di Borgo diventa e deve tornare immediatamente comunità, cioè devono potersi creare le condizioni perché una comunità torni attenta a quello che sembra banale ma che è una produzione. Parliamo di consumo consapevole ma dobbiamo tornare a parlare di produzione consapevole, cioè il fatto di nutrirci, comprare delle verdure, comprare la frutta e non renderci conto che tantissime di quelle cose che compriamo possiamo produrle noi in un'ottica proprio di completa sinergia tra la sostenibilità sociale e ambientale, ma anche arrivando a una sostenibilità economica, quindi producendo un qualcosa che va venduto a un prezzo giusto per quello che si fa. Ecco, il Borgo Verde è questo, nel senso alla fine coraggiosamente gli amministratori, il sindaco ci hanno concesso un Ettore 8, incomodato d'uso gratuito e un parco pubblico, piccolino, non attaccati nei due punti opposti della città di Borgo Manero, che ricordo essere dopo Novara la più grande come popolazione anche, quindi supera nei 20.000 abitanti il Borgo Maneresi e abbiamo attivato, abbiamo cominciato a piantare 100 piante da frutto, 350 piccoli frutti, 6.000 cipolle, 200 kg di patate, svariati piselli, zucchine, pomodori, abbiamo una serra, abbiamo tante cose, abbiamo inaugurato pochi giorni fa con già le scuole presenti, con 65 bambini che hanno avuto modo di fare laboratori con gli educatori ambientali di Coop, grazie anche a un processo molto interessante di LifeGate e Coop Insieme che stanno raccontando che è necessario salvaguardare tutte le api, non solo le mielifere ma anche le impollinatrici, abbiamo 5 nidi di api appunto impollinatrici che si chiamano osmi e cornute che hanno solo la funzione di catturare nettare, cibarsi di nettare e portare in giro polline e sono fantastiche perché hanno, come dire, riescono ad impollinare 98 fiori su 100 di quelli che visitano contro i 15 che impollinano le api da miele e viva Dio le api da miele le abbiamo anche su un altro nostro progetto, però bisogna anche capire dove è conveniente proprio per l'ecosistema e per l'ambiente agire in un modo piuttosto che in un altro. Il borgo verde che è anche un frutteto perché ci sono 100 piante già in fiore oggi e ci sono diverse piante intorno di altre proprietà in un raggio d'azione in cui le api riescono a andare a fare questo lavoro importante di impollinazione, ecco ci è sembrato il caso di utilizzare questa possibilità che è molto concreta, si chiamano anche api selvatiche, in realtà sono api gentili l'altro giorno. E le scuole come hanno risposto a questa possibilità di questo progetto? Le scuole hanno risposto con entusiasmo dall'inizio, i partner sono tantissimi nel progetto Borgo Verde, ci sono ad esempio due scuole, c'è il Bonfantini e c'è l'Eneip, ci sono diverse cooperative, c'è la cooperativa Elios, c'è la cooperativa Raggio Verde che si occupa poi anche della distribuzione, del raccolto. Perché poi è anche un'ottima occasione dal punto di vista dell'inserimento lavorativo, dell'acquisizione di una competenza professionale. Grazie Caterina perché abbiamo proprio studiato il progetto in questi termini, nel senso i nostri operatori che sono anche operatori in questo momento tirocini formativi che anticipiamo come associazione o come cooperativa ma che sono poi pagati anche fortunatamente dai progetti regionali perché sono inserimenti lavorativi, tentativi di inserimenti poi futuri lavorativi perché sono situazioni di svantaggio, sono stati formati da professionisti, è stato rilasciato un diploma di un corso abbastanza lungo sia teorico che in campo di agricoltura che vuole proprio arrivare a creare una professionalità, quindi non è sussidiarietà il percorso, può essere scambiato all'inizio per un percorso di sussidiarietà perché c'è la necessità di, ma in realtà parte con un progetto formativo e vuole continuare creando una professionalità, quindi vuole tornare a sviluppare una comunità pronta a professionalmente a produrre in campo e a ragionare come comunità. Ecco un altro tema di grande attualità soprattutto perché c'è una grande preoccupazione in questo periodo rispetto all'emergenza energetica è appunto il tema delle energie rinnovabili, ecco su questo la tua associazione ha delle iniziative, quali sono le prospettive? Sai, Lega Ambiente sono tanti anni che racconta che è necessario passare alle fonti rinnovabili e forse ce ne accogliamo adesso più che mai, non sono veramente tanti anni che lo raccontiamo e che raccogliamo numeri perché Lega Ambiente parla solo con i dati in mano, l'ambientalismo scientifico è proprio la differenza tra l'ambientalismo autocura e quello scientifico è raccogliere i dati, convalidarli e poi parlare e raccontare delle esigenze. Ad oggi in Italia abbiamo il 35% di energia prodotta da fonti rinnovabili, ecco ne manca 65, se ci fossimo impegnati negli ultimi 10 anni oggi saremmo autosufficienti e non lo dico in termini campanilistici, non dobbiamo dipendere da assolutamente no, lo dico per un problema meramente di sostenibilità vera. L'altro giorno proprio l'inaugurazione di uno dei due borghi, del Borgo Verde 2, di quello percorso di biodiversità e ortodidattico, qualcuno mi chiedeva, eh sì ma poi i pannelli come facciamo con... proprio l'altro ieri ho rilanciato un post del mio presidente nazionale dell'amico Stefano Ciafani che raccontava la visita in Puglia ad un'azienda che ricicla al 100% dei pannelli e ci sono tre fantastici barattolini dove c'è il vetro, dove c'è il silicio e dove c'è la plastica. Oggi il pannello viene riciclato completamente, sono bugie quelle che racconta qualcuno che non si può, che non si deve. C'è un problema e può esserci un problema oggi sulle batterie di accumulo ma ad esempio personalmente con amici si ragiona anche sulle batterie delle auto, cioè le batterie dell'auto elettrico che io posseggo per esempio a fine vita possono diventare degli accumulatori eccezionali per un'abitazione. Quindi anche lì la ricerca e lo studio è quello che poi gli anni in cui ci siamo invece persi a finanziare le fossili, purtroppo lo dico con un po' di polemica ma ecco questo è, erano da impiegare invece nella produzione dell'eolico e del fotovoltaico ed erano anche da ragionare in investimenti per studiare le batterie, per studiare la fine vita delle batterie. I pannelli oggi si riciclano al 100%, non ci sono più storie. Ecco, visto che il tempo purtroppo è veramente tiranno in questa trasmissione, ci sembra che di avere molto più tempo per poter raccontare queste cose. sinteticamente, perché è veramente interessante anche quello che fate, i progetti di cooperazione internazionale, raccontaci l'esperienza del Saharawi. Che cosa fa la tua associazione e tu in prima persona? Una ventina d'anni fa, quando non eravamo ancora affiliati legambiente ma eravamo gli amici del lago e basta, non circolo di legambiente, abbiamo sempre collaborato con legambiente ma siamo entrati in associazione nel 2017 formalmente, cioè prendendoci a cuore un circolo, io poi ho una carica nel regionale del Consiglio di Presidenza regionale, sono un delegato nazionale come tanti, quindi sono molto dentro nel meccanismo, ma l'associazione da prima che si chiamava solo gli amici del lago, aveva cominciato negli anni 2000 ad occuparsi di Saharawi. Saharawi sono dei profughi nel deserto, nel sud ovest dell'Algeria, dimenticati dal 1975 in una situazione folle, in un deserto che si chiama Altopiano dell'Ammada, Giardino del Diavolo, 56 gradi poi ad agosto, ecco queste qui sono parte delle missioni che facciamo e abbiamo deciso di fare tre attività con loro, di fare progetti direttamente nei campi profughi in mezzo al deserto del Sahara e di fare l'accoglienza ai bambini che non sono le vacanze, sono un regime alimentare corretto per un paio di mesi all'anno che comunque su 12 mesi fanno la differenza, per loro sono una serie di cure più dettagliate e ne hanno bisogno, anche là abbiamo bambini ciechi, abbiamo bambini down, abbiamo bambini con problematiche psichiche esattamente come noi, con numeri ridotti perché la popolazione è meno della nostra ma ci sono gli stessi disagi e soprattutto anche con l'attività politica, io sono uno di fondatore della rete nazionale Sarawi e abbiamo fatto diverse cose a tutti i livelli anche alle Nazioni Unite, collaboriamo con il Parlamento Europeo, con tanti parlamentari anche italiani, personalmente sono stato a Ginevra insieme ai vertici di questa cosa a raccontare ecco quale necessità e quale disagio dovremmo superare nel concedere a questo popolo quello che aspettano dal 68 e lo dico dal 1968 che è un referendum per l'autodeterminazione cioè l'autodeterminazione che è stata utilizzata per tantissimi popoli al mondo ecco a questi signori non è ancora concesso, questa è una foto di un mese fa che ho fatto io davanti a una caima che è una tenda e adesso ripartirò a brevissimo, quindi c'è un legame particolare con quella che è un'ingiustizia direi tutta europea che passa da prevaricazioni con cause esclusivamente economiche e commerciali e che ci siamo sentiti di sposare in tutti i sensi e di continuare a sposare anche dal punto di vista scientifico, quindi io personalmente mi occupo per esempio di analisi dell'acqua, la poca acqua che c'è molto spesso ha una qualità pessima, è contaminata perché non è depurata abbastanza bene e quindi insieme a amici di Tor Vergata che hanno cominciato a viaggiare con noi quando erano studenti e adesso sono medici e fior di medici in questi vent'anni abbiamo tutte delle attività che partono anche dall'acqua, dalla qualità dell'acqua che arrivano a cercare di capire quali patologie possono essere connesse a questa qualità, quindi oltre al problema della quantità noi tiriamo uno sciacquone e buttiamo via 10 litri 8, lì ne hanno grosso modo un litro al giorno quando va bene per fare tutto, oltre a questo abbiamo un problema di qualità e quindi mi sembrava molto il caso anche per il mio trascorso chimico, 23 anni di laboratorio chimico di metterci il naso e quindi anche dal punto di vista non solo politico di aiuti umanitari di cooperazione ma anche scientifico, quindi ho messo a disposizione anche un po' la professione personale e dell'ambiente su questo. Quindi un'attività proprio a tutto campo direi come associazione, ecco adesso però vorrei parlare un po' di te personalmente, quindi una domanda che mi capita di fare quando l'ospite ha così tante esperienze, questa ricchezza di vissuto per cui la domanda che viene è ma quando hai iniziato a fare volontariato e perché? Penso da piccolino senza rendermene conto, giocando con aronesi, non lo dico in termini campanilistici ma perché così era e a 5 o 6 anni mi portarono in casa di riposo a fare uno spettacolo con dei matti aronesi che si chiamavano Grignaschi, che si chiamavano con mio papà Caligara, che si chiamavano Antonio Prandi eccetera e animavano alcune giornate in casa di riposo e mi avevano spiegato che quella era un'attività, anche quella era un'attività di volontariato. Crescendo con una mamma che cercava di promuovere circoli di Amnesty International, con papà impegnato in altre attività sempre di teatro ma sempre a fini benefici, uno zio come dire ancora più impegnato, evidentemente il DNA già era predisposto e poi sono stato fortunatamente contaminato, quindi ringrazio gli eventi, ringrazio le persone che mi hanno così, senza forzarmi ma hanno posto attenzione su quello che era la necessità della comunità. Io torno sempre a quella parola magica che è comunità. Quello che dici ci fa capire proprio l'importanza dell'educazione rispetto alla gratuità, rispetto anche all'esempio che uno può vedere, come dici tu c'è nel DNA, ma io credo che ci sia nel DNA di tutti ma non in tutti si sviluppa allo stesso modo perché probabilmente è proprio anche la fortuna di aver incontrato magari delle circostanze educative per cui per questo è proprio veramente veramente importante quello che viene fatto con i giovani, il fatto di poter proporre delle iniziative fin da bambini per far sì che questa predisposizione trovi proprio il compimento della propria umanità nel modo più completo possibile. Io ringrazio tantissimo Massimiliano di questa bella chiacchierata, veramente ci vorrebbero altre due o tre puntate per poter raccontare tutto quello che fa lui, che fa la sua associazione, per cui sicuramente colgo l'occasione per rinvitarti più avanti e per raccontarci anche le tue prossime iniziative. Quindi ringrazio anche voi telespettatori e vi do l'appuntamento alla prossima puntata dell'Infinito dentro un bisogno. Buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.